Ormai ero sola alla fattoria. Non mi apparteneva più, ma i nuovi proprietari mi avevano offerto di restarvi finché volevo. Per pura formalità pagavo un affitto di uno scellino al giorno. Dovevo vendere i mobili, compito tutt'altro che lieve, per farà e per me. Avevamo messo porcellane e cristalli in bella vista sul tavolo della stanza da pranzo, ma quando si vendette il tavolo dovemmo disporli pezzo per pezzo sul pavimento. L'orologio a cucù sul muro continuava a segnare le ore con arroganza, ma poi fu ceduto anche lui e volò via. Un giorno vendetti ad una signora i miei bei bicchieri, ma la notte mi pentì e al mattino mi recai macchina a Nairobi per farmeli restituire. Non sapevo dove metterli, ma tanti miei amici li avevano toccati, bevendo dalla loro coppa, vini squisiti. Pareva serbassero ancora un eco dei nostri discorsi. Non li volevo cedere ad altri. In fondo, pensavo, sarebbe stato sempre più facile romperli. Possedevo un parafuoco di legno con dipinte figure di cinesi, sultani e negri, recanti cani al guinzaglio. Era stato sempre vicino al caminetto. La sera, quando il fuoco scoppiettava allegramente, quei personaggi prendevano corpo. Pareva quasi illustrassero le storie che narravo a Dennis. Lo guardai ben bene, poi lo piegai e lo misi in una cassa. Quei signori, per il momento, potevano stare in riposo. In quel periodo, a Nairobi, stavano portando a termine il palazzo che Lady Macmillan aveva fatto costruire in memoria di suo marito, Sir Northrop Macmillan, un bel edificio con biblioteca e sale di lettura. Lady Macmillan venne a trovarmi alla fattoria. Mi parlò con tristezza dei vecchi tempi e comprò per la biblioteca quasi tutti i miei mobili danesi. Mi faceva piacere che quei gai, saggi, ospitali armadietti e stipi restassero insieme, fra libri e studenti, come un piccolo circolo di signore riuscite, chissà come, durante la rivoluzione, a trovare asilo in un'università. I miei libri li raccolsi nelle casse che poi mi servirono per tanto tempo da sedie e tavolini. In Colonia, i libri hanno una funzione diversa che in Europa. Essi soltanto possono soddisfare un certo aspetto della nostra vita laggiù. Se sono belli, ci si commuove e se sono brutti, ci si indegna con una foga ignota nei paesi civili. I personaggi immaginari dei libri letti galoppano accanto al tuo cavallo o passeggiano insieme a te nei campi di Gran Turco. Sanno trovare da soli, come abili soldati, il posto dove piantare le tende. Avevo appena letto Giallo Cromo, la sera prima, non conoscevo l'autore, e il libro, pescato in un negozio di Nairobi, mi aveva resa felice come la scoperta di una nuova isola verde nel mare, quando una mattina, andando a cavallo in una valle della riserva di caccia, mi imbattei in un piccolo duiker. Si trasforma immediatamente per me in un cervo a cui Sir Hercules, insieme a sua moglie e alla sua muta di bulldog giallo Bruni, poteva dare la caccia. Tutti i personaggi di Walter Scott erano di casa da quelle parti, li incontravo dovunque, come incontravo Ulisse e i suoi uomini, e chissà perché, molti personaggi di Rasim. C'era Peter Schleimil, che correva per le colline con gli stivali delle sette leghe, e c'era Claun Hageb, l'ape operaia, che aveva preso dimora nel mio giardino vicino al fiume. Passo passo, tutto quanto mi apparteneva venne venduto, imballato e spedito. La casa divenne Das Ding Anzik, nobile come un teschio, un posto fresco e ampio, dove regnava l'eco e l'erba giungeva fin sui gradini della porta. Alla fine le stanze erano completamente nude. In quel momento, col mio animo da allora, mi sembravano il posto ideale per vivere. Avremmo dovuto tenere la casa sempre così, dissi a Farah, e Farah capì cosa intendevo. In tutti i somali ve una parte di ascetismo. In quel periodo Farah si dedicava anima e corpo a me e alla fattoria, ma diventava sempre di più un vero somalo. Ricordavo l'impressione che mi aveva fatto quando era venuto a prendermi al mio arrivo, in Africa. Si preoccupava delle mie scarpe sciupate, e un giorno mi confidò che pregava addio perché mi durassero fino a Parigi. In quei mesi indossava sempre i suoi vestiti migliori. Ne aveva tanti. Panciotti arabi ricamati d'oro regalategli da me. Un elegante panciotto militare rosso con i galloni d'oro regalatogli da Berkeley Cole, turbanti di seta dalle tinte stupende. Di solito li teneva nel cassetto per indossarli solo nelle grandi occasioni, ma ora li aveva tirati tutti fuori. Mi seguiva per le strade di Nairobi, a un passo di distanza, rispettosamente, o mi aspettava sulle sudice scale degli edifici governativi e degli uffici legali, abbigliato come il re Salomone i giorni del suo grande splendore. Solo un somalo avrebbe potuto farlo. Dovevo ormai decidere anche la sorte dei miei cavalli e dei miei cani. Avevo sempre pensato di ucciderli, ma molti amici mi scrissero che sarebbero stati felici di averli. E ogni volta che uscivo a cavallo, seguita dai miei cani, non mi sembrava giusto ucciderli con un colpo di fucile. Erano ancora così pieni di vita. Per molto tempo fui incapace di prendere una decisione, ma non ho mai cambiato idea tante volte. Alla fine scelsi di regalarli ai miei amici. Mi recai a Nairobi sul mio cavallo favorito, Rouge. Andavo a passo lento, guardando la campagna intorno. Era strano per Rouge, pensavo, andare a Nairobi per non tornare più indietro. Lo sistemai nel vagone per i cavalli del treno di Naivasha. Là, per l'ultima volta, il suo muso di seta mi strusciò le mani e il viso. Non ti lascerò andare, Rouge, se non mi concedi la tua benedizione. Abbiamo scoperto insieme i sentieri che portavano al fiume, tra le shambas e le capanne indigene. Scendevi agile come un mulo per l'argine scivoloso. La tua testa sfiorava la mia, nella corrente bruna. Possa tu ora in una valle di nubi, pascolare garofani alla tua destra e violacciocche alla tua sinistra. I due giovani levrieri scozzesi di allora, David e Dinah, figli di Pania, li diedi a un amico di una fattoria vicino a Gigil. Là sarebbero potuti andare a caccia quanto volevano. Forti e giocherelloni fecero una partenza in grande stile, in una macchina venuta appositamente per loro. Col muso fuori del finestrino ansavano, la lingua a penzoloni, come eccitati dalla pista di una nuova e stupenda selvaggina. Quegli occhi acuti, quelle zampe veloci, quei cuori pieni d'ardore lasciavano la casa e la pianura per recarsi a scorrazzare, felici, in altri luoghi. Ormai anche la mia gente cominciava ad abbandonare la fattoria. Non curavano più la piantagione, lo stabilimento era chiuso. Puran Singh si trovò senza lavoro, non volle cercarsene un altro in Africa, preferì tornare in India. Fuori della sua bottega, Puran Singh, il dominatore del ferro, diveniva come un bambino. Non si sapeva rassegnare a vedere la fattoria finire a quel modo. Se ne affliggeva, ne piangeva, grosse lacrime gli correvano per la barba nera. Non mi lasciava respiro con le sue manovre per impedire la mia partenza e i suoi piani ottimistici. Era sempre stato orgoglioso dei nostri macchinari, benché non fossero certo perfezionatissimi. Adesso non riusciva a staccarsi dalla macchina a vapore e dall'essiccatore del caffè, se li divorava dado per dado con i suoi affettuosi occhi neri. Poi, quando finalmente si convince che non vera speranza, si arrese, e si arrese di colpo. Benché ancora profondamente addolorato, aveva smesso di lottare. Quando per caso lo incontravo, mi parlava ormai dei viaggi che aveva in mente. Il giorno della partenza ricava come unico bagaglio una cassetta di strumenti e arnesi per le saldature. Aveva già mandato il suo cuore e la sua vita al di là dell'oceano. Ora, a seguirli, restava solo la sua figura, bruna e magra, senza pretese, armata del bricchetto della fiamma ossidrica. Prima che lasciasse la fattoria, volevo fargli un regalo e gli chiesi cosa gli sarebbe piaciuto. Speravo scegliesse un oggetto che possedevo già. Invece, tutto felice, mi domandò un anello. Anelli non ne avevo e soldi per comprarne nemmeno. Era l'epoca in cui Dennis veniva ancora a cena alla fattoria e una sera gli confessai il mio imbarazzo. In quel momento portavo un anello d'oro abissino, uno di quegli anelli a vite adattabili a qualsiasi dito. Me l'aveva regalato lui stesso e credette di leggere nei miei occhi la vaga intenzione di darlo a Puran Singh. Diceva sempre che non poteva mai farmi un regalo senza che io lo trasferissi subito a qualcuno dei miei indigeni. Quella volta, per impedirmelo, me lo sfilò dal dito e se lo mise lui. Pochi giorni dopo si recò con l'aereo a Mombasa. L'anello fu sepolto con lui. Più tardi riuscì ugualmente a trovare i soldi per comprare a Puran Singh il suo anello, un anello d'oro pesante con una grossa pietra rossa probabilmente di vetro. La felicità fece spargere ancora qualche lacrima al mio fabbro indiano. Quell'anello, forse, gli fu d'aiuto al momento in cui dovette separarsi per sempre dalla fattoria e dalle sue care macchine. Le settimane prima della partenza non se lo toglieva mai. Quando veniva a casa alzava la mano con un sorriso radioso e gentile per mostrarmelo. L'ultima cosa che vidi di lui alla stazione di Nairobi fu quella mano magra e scura che aveva lavorato alla fattoria con furiosa energia e ora mi salutava dal finestrino del treno indigeno surriscaldato e pieno di gente dove Puran Singh si era fatto a uno sgabello della cassetta d'attrezzi. La pietra rossa scintillava come una piccola stella mentre mi faceva cenno da Dio. Puran Singh si trasferì a Punjab dalla famiglia che non vedeva da anni ma con cui era rimasto sempre in contatto. Conservava le fotografie nella sua cassetta di lamiera ondulata vicino allo stabilimento e spesso me le mostrava con tenerezza e orgoglio. Mi scrisse molte lettere, le prime dal battello che lo conduceva in India. Cominciavano tutte allo stesso modo, cara signora, addio, e proseguivano con i racconti delle sue avventure di viaggio. Una mattina, una settimana dopo la morte di Dennis, mi accadde una cosa strana. Ero a letto e stavo ripensando agli avvenimenti degli ultimi mesi, cercando di afferrarne il significato. Mi pareva di essere uscita, non so come, dal corso normale dell'esistenza umana e di ritrovarmi in un vortice dove non avrei mai dovuto entrare. Ovunque andavo la terra sprofondava sotto di me, le stelle rotolavano dal cielo. Pensavo al poema di Ragnarok, che descrive la caduta delle stelle e i nani attoniti, gementi, chiusi nelle loro grotte sulle montagne dove muoiono di paura. Tutto ciò non può essere, pensavo, solo quell'insieme di circostanze che la gente chiama un periodo di sfortuna. Deve celare un principio, un centro. Se lo scopro, sono salva. Se trovo la prospettiva giusta, mi dicevo, le cose mi appariranno tutte chiare e coerenti. Devo alzarmi, conclusi, e cercare un segno. A molti pare assurdo andare in cerca di un segno. Forse perché per riuscire a trovarlo occorre uno stato d'animo speciale, non comune. Ma se si chiede un segno in quello stato di grazia, la risposta non può mancare. È la conseguenza naturale della domanda. Non diversamente, nel momento dell'ispirazione, il giocatore raccoglie 13 carte, prende quella che si chiama una mano, un'unità. Dove gli altri non vedono nessuna possibilità, lui vede un grande slam che lo fissa in faccia. Ma c'è nelle carte il grande slam? Sì, per quel solo giocatore, in quel momento. Uscì in cerca di un segno. Vagabondai a caso verso le capanne dei servi. Avevano appena lasciato liberi i polli che correvano qua e là fra le case. Mi fermai a guardarli. Mi venne incontro, pavoneggiandosi, il grande gallo bianco di Fatima. D'un tratto si fermò. Volse la testa prima da una parte e poi dall'altra, drizzando la cresta. Dall'altro lato del sentiero, sbuccò dall'erba un piccolo camaleonte grigio. Anche lui, come il gallo, compiva una perlustrazione mattutina. Ma il gallo gli piombò dritto sopra, i polli songhiotti di camaleonti, chiocciando di piacere. Il camaleonte si arrestò paralizzato alla sua vista. Atterrito, ma impavido, piantò i piedi per terra, spalancò la bocca più che potè e, per spaventare il suo nemico, tirò fuori in un lampo la lingua a bastone. Il gallo rimase per un secondo immobilizzato dalla sorpresa, poi, rapidamente e con decisione, abbassò il becco come un martello e strappò la lingua al suo avversario. Il duello era durato in tutto dieci secondi. A quel punto, cacciato il gallo di Fatima, presi un sasso e ammazzai il camaleonte. Senza lingua non poteva sopravvivere. I camaleonti si servono della lingua per afferrare gli insetti di cui si nutrono. Terrorizzata dalla scena, duello atroce e formidabile in miniatura, andai a sedermi sulla panchina di pietra vicino a casa. Farà mi portò il tè là fuori, sul tavolo. Guardavo a terra senza osare di alzare gli occhi. Il mondo mi sembrava irto di pericoli. Solo molto lentamente, nei giorni che seguirono, mi resi conto che la mia invocazione aveva avuto la più spirituale delle risposte. In un certo modo strano, avevo persino ricevuto un segno di distinzione. I poteri da me invocati avevano riconosciuto la mia dignità più di quanto la riconoscesse io stessa. Che altra risposta potevano darmi, allora? Non era certo il momento di far convenevoli. Io li avevo interrogati e loro avevano accettato di darmi una risposta. I grandi poteri avevano riso e le colline avevano rimandato l'eco della loro risata, fra le trombe, fra i galli e i camaleonti. Ed ero lieta di essere uscita in tempo per salvare il camaleonte da una morte lenta e dolorosa quella mattina. Più o meno in quel periodo, ma prima che regalassi i cavalli, Ingrid Lindstrom venne dalla sua fattoria a Angioro per tenermi compagnia. Fu un vero gesto d'amicizia. Non era facile per lei lasciare il suo lavoro. Per pagare i terreni acquistati a Angioro, suo marito si era impiegato in una grossa società di fibre vegetali a Tanganyika. In quei giorni stava faticando a 600 metri di altezza. Era come se Ingrid, per salvare la fattoria, lo avesse ceduto in affitto come schiavo. Nel frattempo doveva occuparsi lei di tutto. Aveva ampliato l'allevamento dei polli e la produzione degli ortaggi, creato un reparto per maiali e covate di giovani tacchini. Abbandonare la fattoria, sia pure per pochi giorni, non le era facile. Ma, per amor mio, affidò tutto a chiemosa e si precipitò da me come se sarebbe precipitata da un amico la cui casa fosse in fiamme. Venne senza chiemosa e date le circostanze, per farà fu probabilmente un bene. Ingrid capiva e comprendeva con tutto il cuore, col grande slancio della natura, cosa significhi per una donna dover cedere e abbandonare la fattoria dove è stata padrona. Fino al giorno della sua partenza non parlammo né del passato né del futuro, non nominammo uno solo dei nostri amici o conoscenti. Il disastro del presente ci assorbiva interamente. Andavamo in giro per la fattoria, nominando una per una ogni cosa che vedevamo, quasi volessimo compilare un triste inventario della mia perdita o raccogliere un libro di lamenti da mostrare al destino. Ingrid sapeva benissimo, per esperienza diretta, che tale libro non esiste, ma le donne, segretamente, non possono fare a meno di immaginarlo. Al ricinto dei buoi ci sedevamo sulla palizzata per contare ad una ad una le bestie di ritorno dal pascolo. Le indicavo ad Ingrid senza commenti, quei buoi, dicevo. E senza commenti rispondeva, già, quei buoi, registrandoli nel libro. Andavamo per le stalle a dare zucchero ai cavalli. Mostrandole col pianto in gola, le palme attaccatice e umide di saliva, sospiravo. Questi cavalli. Ingrid mi faceva ecodolente, già, questi cavalli, e li registrava. Giunta al mio giardino, vicino al fiume, strusciava le mani sulla salvia, la menta e la lavanda. L'idea che mi toccassi abbandonare le piante portate dall'Europa le pareva intollerabile. Per un pezzo non riusciva a parlare d'altro, quasi escogitando mille sistemi perché potessi portarle con me. Passavamo pomeriggi interi a contemplare il mio piccolo greggio di mucche indigene, intente al pascolo, sul prato. Le dicevo quanti anni avevano, come erano, quanto latte davano. Ad ogni particolare gemeva, come se qualcuno le facesse male. Le esaminava attentamente una per una, non per interesse commerciale, che sarebbero passate tutte quante ai miei servi, ma per valutare e giudicare fino in fondo la mia perdita. Indugiava soprattutto davanti ai vitellini e dal pelo morbido e dal profumo dolce. Lei che aveva faticato tanto per possedere due o tre mucche e qualche vitello nella fattoria, ora, assurdamente, senza volerlo, mi lanciava occhiate piene di rimprovero e di ira perché abbandonavo le mie bestie. Se un uomo, trovandosi accanto ad un amico colpito dalla sventura, si sorprende a pensare, grazie a Dio non è toccato a me, sentendosi subito a disagio, cerca di reprimere quel sentimento, affacciatosi suo malgrado. Fra due donne è diverso. Quando una dimostra all'altra la propria profonda partecipazione alle sue disgrazie, resta sottinteso che in cuor suo continuerà a dirsi, grazie a Dio non è toccato a me. Questo non crea fra loro nessun imbarazzo, al contrario, è un modo di sentirsi vicine, di dare alla cerimonia un'impronta personale. Gli uomini forse non sarebbero capaci di individuare o vincere un altro con grazia e semplicità. Si sa che la sposa trionfa sulle damigelle e che la puerpera è invidiata dalle amiche in vista, ma senza imbarazzo per nessuno. Quando una donna mostra all'amica i vestiti di un figlio perduto, sa che l'altra pensa in cuor suo, grazie a Dio non è toccato a me, e agli occhi d'entrambe non va in questo nulla di strano o di innaturale. Così era per Ingrid e me. Mentre passeggiavamo insieme per la piantagione, sapevo che pensava alla sua fattoria e si rallegrava di non averla perduta, o di poter continuare a lottare per non perderla, ma ciò non creava fra noi nessuna disarmonia. Malgrado i pantaloni e i vecchi cappotti cachi, eravamo in realtà due donne mitiche, a volta una in vesti bianche e l'altra in vesti nere, un'unità, i geni della vita del colono in Africa. Di lì a qualche giorno Ingrid mi disse addio, tornandosene a Gioro col treno. Non possedendo più il mio cavallo, le mie passeggiate a piedi e senza i cani erano molto silenziose e tranquille, ma mi restava la macchina e ciò costituiva una vera fortuna per me, perché in quei mesi avevo tante cose da fare. Mi preoccupavo della sorte che attendeva i miei squatters. I nuovi proprietari della fattoria volevano abbattere la piantagione di caffè, tagliare gli alberi e vendere il terreno a lotti come terreno per costruzione. I squatters, quindi, non servivano più a nulla. Appena la vendita fu perfezionata, ebbero un preavviso di sei mesi per lasciare la fattoria. Vissuti sempre nell'illusione che la terra appartenesse a loro, furono colti assolutamente di sorpresa da quella decisione imprevista. Molti erano nati là, altri erano venuti da piccoli con i genitori. Non ignoravano di dover lavorare per me 180 giorni l'anno, con una paga di 12 scellini ogni 30 giorni. Nell'ufficio della fattoria c'erano tanto di registri. Non ignoravano neppure di dover pagare al governo una tassa di 12 scellini ogni capanna, una bella somma per gente che, con poca spesa in più, avrebbe potuto farsi due o tre capanne d'erba, a seconda del numero delle mogli. Ogni moglie, per i kikuyu, dovrebbe avere la sua capanna. A volte, infine, per punirli di qualche trasgressione, li avevo minacciati di cacciarli dalla fattoria e quindi non potevano ignorare. A volte, infine, per punirli di qualche trasgressione, li avevo minacciati di cacciarli dalla fattoria e quindi non potevano ignorare che la loro posizione non era eterna e immutabile. Inghiottivano male la faccenda della tassa sulle capanne. Per incassare i soldi per conto del governo mi ci voleva del bello e del buono. Spesso mi seppellivano di chiacchiere, ma questo, ai loro occhi, faceva parte delle comuni vicissitudini della vita. Non vedevano perché non si potesse trovare una scappatoia qualsiasi. Non riuscivano a capire che in fondo a tutto questo vera un principio universale e che codesto principio, al momento opportuno, si sarebbe fatto valere, implacabile e schiacciante. Si ostinavano a considerare la decisione dei nuovi proprietari solo come uno spauracchio che col coraggio si poteva ignorare. Sotto certi aspetti, per la mentalità indigena, i bianchi sono ciò che per noi è l'ideale di Dio. Una volta, facendo un contratto con un mercante di legna indiano, trovai la frase «atto di Dio». L'avvocato cercò di spiegarmi l'espressione per me insolita. «No, no, signora», disse, «lei non ha afferrato il senso della frase. Atto di Dio è ciò che appare completamente imprevedibile, fuori da ogni regola e da ogni buonsenso». Quando finalmente si resero conto di dover abbandonare sul serio le loro shambas, gli squatters presero a venire da me tutti i tetri, a gruppetti. L'imposizione a loro pareva solo una conseguenza della mia partenza dalla fattoria. La mia sfortuna cresceva finendo per coinvolgere anche loro. Non che me ne facessero una colpa, già ne avevano discusso insieme, solo volevano sapere da me dove dovessero andare. Cosa mai avrei potuto rispondere? Gli indigeni, per legge, non possono acquistare la terra. D'altronde non conoscevo nessuna fattoria abbastanza grande da accoglierli come squatters. Quando avevo cercato di interessarmene, mi era stato suggerito solo di mandarli nella riserva Kikuyu. Là avrebbero potuto installarsi. Ma c'era abbastanza terra disponibile nella riserva per portarci tutte le bestie, mi chiesero. E avrebbero veramente potuto sistemarsi tutti nello stesso posto? Volevano restare insieme, non si volevano separare. Quella loro richiesta mi sorprese. Alla fattoria non andavano molto d'accordo, pareva avessero ben poco da spartire. Ora invece venivano tutti, i grandi, boriosi proprietari di greggi come Categu, Caninu e Mauge, la mano nella mano, per così dire, con gli umili contadini diseredati come Vaveru e Ciotta, che non possedevano neppure una capra, tutti accumunati dallo stesso spirito, decisi non solo a conservare le loro vacche, ma a restare uniti. Non si contentavano di un posto dove vivere, pretendevano da me la loro vita stessa. Strappare ad un uomo la terra dove è nato significa strappargli il suo passato, la sua identità, le sue radici. Togliergli ciò che è abituato a vedere, ad aspettarsi di vedere, è un po' come portargli via gli occhi. E questo vale soprattutto per i popoli primitivi. Quanta strada sono capaci di ripercorrere gli animali, quanti pericoli e sofferenze affrontano per tornare nei luoghi a loro noti, per ritrovare la loro identità perduta. Quando erano stati costretti ad abbandonare la loro antica terra, a nord della ferrovia, per stabilirsi nell'attuale riserva, i Masai avevano portato con sé anche i nomi delle colline, delle pianure e dei fiumi, per trasferirli alle colline, alle pianure e ai fiumi della loro nuova dimora, donde nascono frequenti equivoci per i viaggiatori. Servando religiosamente le loro radici troncate, quasi un guento per la ferita dell'esilio, avevano cercato nella nuova terra di mantenere vivo il passato con una formula. Ora lo stesso istinto di autoconservazione creava fra i miei squatters un attaccamento reciproco. Costretti ad abbandonare la loro terra, volevano almeno accanto gente che l'avesse conosciuta, che potesse testimoniare della loro identità. Per qualche anno sarebbero stati capaci di rievocare la geografia e la storia della fattoria. Ciò che uno avesse dimenticato sarebbe rimasto vivo nella memoria dell'altro. In quel momento sentivano pesare su di loro la vergogna dell'estinzione. «Vai, Mzabu», dicevano, «vai a nostro nome dai selicali e fai modo che ci permettano di portare con noi tutto il nostro greggio nella nuova terra e di restare insieme, dovunque si debba andare». Ebbe inizio allora per me un lungo pellegrinaggio, una lunga questua che si protrasse fino alla mia partenza. Andai prima dai commissari distrittuali di Nairobi e Chiambu, poi al dipartimento indigeno e all'ufficio territoriale, e alla fine dal governatore, Sir Joseph Byrne, che era appena arrivato dall'Inghilterra e che quindi non avevo mai incontrato. Finii per dimenticare il motivo di quel pellegrinaggio. Mi pareva di essere trascinata a mio malgrado, come da una corrente marina. A volte dovevo trattenermi un giorno intero a Nairobi, o recarmici due o tre volte in uno stesso giorno. Sempre, al ritorno, trovavo qualche squatter di guardia davanti a casa. Non mi chiedevano nulla, si limitavano a vigilare per trasmettermi, con chissà quale magia, la forza di resistere. I funzionari del governo si mostravano pazienti e gentilissimi. Se fosse stato per loro mi avrebbero accontentato subito, ma era veramente un problema trovare nella riserva Kikuyu una zona libera e abbastanza grande da accogliere tutta quella gente con il bestiame. Quasi tutti i funzionari, vivendo in Africa da anni, conoscevano bene gli indigeni. Mi suggerivano di persuadere i Kikuyu a vendere parte del loro bestiame, ma senza convinzione. Sapevano che nulla al mondo li avrebbe persuasi ad un simile passo e che, costretti a portare le loro greggi in un posto troppo piccolo, di lì a qualche anno avrebbero creato infiniti guai coi vicini della riserva e infiniti grattacapi per il distretto. Ma quanto alla seconda richiesta, le autorità rispondevano che gli squatters non avevano nessun bisogno di restare insieme. Non è questione di bisogno, pensavo. Anche i nostri più miserabili straccioni hanno i loro bisogni superflui, e così via. Gli uomini, secondo me, potrebbero venire classificati dal loro eventuale atteggiamento verso Relliar. Non si può ragionare con Relliar come non si può ragionare con un vecchio Kikuyu. Relliar esigeva sempre troppo da tutti, ma era un re. È vero che l'africano non ha consegnato la sua terra al bianco con munificenza regale. Sono i bianchi che gliel'hanno presa con la scusa del protettorato. Il caso, quindi, è molto diverso da quello del vecchio re con le figlie. Ma non si dimentichi che non molto tempo fa, in un'epoca ancora viva nella nostra memoria, gli indigeni furono padroni incontrastati nella loro terra, ignari dei bianchi e delle loro leggi. In quella loro esistenza malsicura, la terra fu l'unica cosa sicura. Molti vennero portati via dai mercanti di schiavi e venduti, ma molti restarono. I primi, esuli e schiavi nel mondo orientale, avrebbero sognato i loro altipiani. Gli altri, i vecchi indigeni scuri dagli occhi limpidi, sono rimasti là, nella loro terra, col peso delle impressioni lentamente raccolte e ammucchiate nelle menti confuse, lineamenti della terra, essi stessi. Profondamente turbati dai grandi cambiamenti che si stanno svolgendo intorno a loro, forse chiederanno a te dove sono, e tu dovrai rispondere con le parole di Kent, nel vostro regno, Sire. Alla fine, proprio quando cominciavo a pensare che avrei dovuto continuare in eterno il mio pellegrinaggio per gli uffici del governo di Nairobi, sepi improvvisamente che le mie richieste erano state accolte. Il governo concedeva ai miei squatters un tratto del bosco della riserva di Dagoretti. Là si sarebbero potuti installare per conto proprio, non lontano dall'antica sede. Perdevano la fattoria, ma non la loro dignità e il loro nome come comunità. La notizia fu accolta con profonda, tacita emozione. Non si capiva, dal viso dei Kikuyu, se avessero sempre avuto fede o avessero disperato. Risolto il problema della loro terra, cominciarono a farmi una serie di richieste e proposte complicate, ma mi rifiutavo di ascoltarle. Sedevano ancora davanti alla casa, ma mi guardavano in modo diverso. Tale è il sentimento che gli indigeni hanno della fortuna, e la loro fede in essa che, quando qualcosa è andata bene, sono convinti che tutto andrà sempre bene. Ormai forse credevano che non sarei partita più. Quanto a me, risolto il problema degli squatters, ero molto calma. Di rado ho avuto un tale senso di sollievo. Poi, dopo qualche giorno, cominciai a sentire che la mia opera là era conclusa. Ormai potevo andare via. Il raccolto del caffè era finito, il mulino fermo, la casa vuota, i squatters avevano la loro terra. Finite le grandi piogge, l'erba nuova cresceva già alta, sulla pianura e sulle colline. Il mio piano segreto di cedere su tutte le questioni minori, per resistere su quella che per me era la cosa veramente importante, era fallito. Passo per passo, avevo dato via tutto ciò che possedevo, quasi in riscatto della mia vita. Ma appena rimasta a mani vuote, il fato poteva sbarazzarsi di me in un soffio. La luna piena, in quei giorni, brillava nella stanza nuda, specchiando sul pavimento la sagoma della finestra. Forse, pensai, stava scrutando all'interno chiedendosi quanto avevo intenzione di restare in quella casa da cui tutto il resto era partito. Oh no, mi rispose la luna, il tempo conta ben poco per me. Mi sarebbe piaciuto restare finché gli squatters non si fossero installati nella loro nuova sede, ma ci voleva tempo, perché potessero prenderne possesso. Chissà quanto avrei dovuto attendere.